Ciao a tutti webbazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Webbo e oggi siamo su The Evil Within 2 come sempre Niente, secondo me oggi ci troveremo faccia a faccia con Stefano Secondo me vedremo anche il suo vero aspetto, il suo vero aspetto mostruoso, non lo so Comunque siamo a teatro, andiamo a vedere Ok, eccoci qui, proprio dove insomma eravamo rimasti l'ultima volta Non si può più uscire dal teatro, quindi cioè da qui ragazzi si può andare solo avanti Andiamo avanti Perché no? È meraviglioso, l'hanno sprecato perché non hanno immaginazione, perché non sono artisti Vogliono controllarli, manipolarli, tu vuoi fermarmi Beh Ma hai fallito perché con il potere del nucleo posso creare la mia arte per sempre Certo Stefano Questo lo vedremo Allora, vediamo se ci sono oggetti Beh, la strada sembra una sola, cioè su, verso queste scale Andiamo Aiuto Che diavolo sta facendo a questa gente Questa caccia è stata divertente Ma anche le cose più belle, prima o poi, devono finire Dov'è? La bambina? Complimenti per essere arrivato fin qui Se la perseveranza fosse una forma d'arte Tu saresti un maestro Forse non un Michelangelo Ma perlomeno un vantaggio Basta con le stronzate artistiche Dov'è? Il nucleo è al sicuro Con me Ho eseguito i suoi ordini Ma una volta che ho compreso l'entità del suo potere Come avrei potuto consegnargliela? Ciò che faccio è più importante del mero rendiconto personale Lui non potrebbe mai capire Lui? De che parli? Non ha importanza Tanto ha le ore contate oramai Le mie opere, tuttavia Continueranno a vivere Picasso ha avuto il suo periodo blu Io ho appena iniziato il periodo rosso No! No! Ammira La mia ultima ombra No! 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 Ahhhh Meraviglioso Un bouquet di carne e sano Maniaco bastardo Come potrò mai fare di meglio? Troverò un modo La sua paura è fonte di ispirazione Corruzione dell'innocenza Fa scattare la scintilla creativa Non puoi Non sapresti sfruttare il suo potere Sei solo uno stonto Neander Lei è inutile nel mio Attenzione No Vengo a prenderti bastardo Eh ci proviamo? Mamma mia ragazzi No vabbè Che cos'è? Inception? Figo però Ma è boss? È un boss? Eh sì Perché se Non so se è proprio un boss O un pre-boss Oddio Ok non devo farmi vedere dalla luce credo Ok Così Dove arriva? Quindi poi devo andare lì dietro Così Lì c'è una pistola Che cos'è? No un'arma Munizioni Ok devo raggiungerle Ok C'è un'altra Un'altra roba lì Mamma mia Per poco Appena mi supera Scatto Adesso Mamma Mamma Ok Proviamo ad andare lì giù Vai Passa Aiuto Mamma mia Ok Buono anche questo Qui dove vado? Così? Sì Aiuto Ok Non mi ha visto Facciamolo passare Adesso Ok 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 No Help Corri Corri Sebastian Perfetto Uff Dove cazzo sei andato? Secondo che lo troviamo Cioè Non è che abbiamo avuto A sta fretta Ok Sento lo specchio È una stanza di salvataggio Forse mi dà la possibilità Di rifocillarmi Prima di Della battaglia finale Cioè la battaglia finale Insomma la battaglia con Stefano Possiamo andare Sempre molta luce Questa era la casa che ho visto Qualche capitolo fa Sì Sì Aiuto Bene Sarà arte Nel vero senso Della parola Ma cos'è l'arte Senza un pubblico Ho bisogno di te Per completare la mia opera Arrivo Non è così che finirà Mi sta chiudendo tutte le porte L'etichetta ce l'ho Andiamo Ok arrivo Stefano Forse Mostrami quello che sai fare Ok ragazzi Mi sa che ci siamo Mi sa che ci siamo Basta inseguimenti E basta stronzate D'accordo Ora inizia ad annoiarmi Aiuto La tua morte Sarà arte È ora di firmare Il capolavoro Non ammazzo Stefano Preso Preso La tua fortuna finirà Primo Questo farà male Quasi Preso Preso Ma non so Ma non so Ma non so Non so se ci sto facendo Veramente del male Perché Non puoi nascondere Da ciò che non vedi Ok ok Ci siamo Qualcosa abbiamo fatto Le cose si mettono male Non resterà niente E quando Fermo Dannazione Non ha senso scappare Aiuto Sì sì Magari tu Non puoi nasconderti Per sempre Sanguina per me Preparati a morire Non c'è Ok 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 Aiuto Ok Stiamo andando bene Aiuto Ok Vieni 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 Ok Offi di munizione Il fucile A pompa Mi basta Solo la pistoletta No vabbè Ma con la pistoletta Ragazzi Non faccio niente No vabbè Mi fai male No ma con la pistoletta Non lo posso uccidere Ragazzi Ma come faccio Ti per sempre Oh Cofi la pompa Ok Ok Vieni 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 caro Stefano Aiuto Aia Vieni Vieni No non riesco a prendere Quando fa così Non riesco a prendere Dai Sì Sì Muori Stefano Uff Avevo ancora così tanto da crear Hai distrutto il mio retaggio Guardami Tu mi hai trasformato in un capolavoro Devo immortalarlo Se solo avessi la mia macchina Dov'è finita? C'è tempo Per una Ultima foto Lili Non avere paura tesoro Sono io Papà No Non è vero Papà è morto Tesoro So che cosa ti hanno detto Ma non è la verità Lili Ti prego Io Vieni Lili Non devi nasconderti Non devi nasconderti Vieni dalla mamma Lili Ti proteggerò io Maira Allontanati Tu non puoi averla Lili Maira Ma Sarò qui fuori ad aspettarti Mentre lì dentro ti aspetterà qualcun altro Kidman Ha sempre saputo di Myra Ma io posso tacere se mi fai entrare Marta Ok Ragazzi non so cosa sia successo Capitolo 9 Un altro male Allora voi pazzooli Direi che possiamo chiudere qui questo video Ci siamo tolti dalle scatole Stefano Per fortuna non lo rivedremo mai più Ma è successo veramente di tutto Cioè Myra è spuntata così dal nulla All'interno dello stem anche lei C'è tutta la famiglia Castellanos Dentro lo stem in questo episodio Non lo so sinceramente Se lei è cattiva Se è buona Penso sia cattiva a questo punto Specialmente E poi è quella che governa Tutta quella roba lì Melmosa Vabbè Comunque Ne sapremo di più Nel prossimo capitolo Come al solito Vi dobbiamo lasciare un commento O un mi piace Iscriviti se siete iscritti E noi ci vediamo al prossimo video Ciao e pazzi Ciao e pazzi Ciao vi Ciao